quando cerchi un ristorante o un albergo non guardi le recensioni non vai a leggere come si sono trovati gli altri e perché non dovresti farlo quando devi investire sulla tua casa cioè quando devi tirare fuori più di 60 euro di una semplice cena tutti gli installatori che fanno parte della squadra ottengono recensioni positive ma perché le altre aziende non lo fanno devono nascondere qualcosa ma come puoi fidarti di un'azienda che non conosci e di cui non puoi leggere nemmeno una recensione ecco qui qualche recensione sono tutte positive ma non perché ho cancellato quelle negative che non potrei nemmeno ma perché siamo usciti a risolvere anche eventuali problemi che si sono presentati in cantiere un'azienda che si sono presentati in cantiere un'azienda che si sono presentati in cantiere Se ti è piaciuto questo video iscriviti al mio canale youtube per vedere nuovi video oppure clicca sulla descrizione qui sopra